Siamo abbiamo cambiato mondo abbiamo cambiato universo universo parallelo siamo su Elder Scroll Online e ci facciamo i personaggi il caso mi farà rimanere con la Mata Alliance buonasera che cos'è che volevo fare una una sorc- un sorcer Buonasera siamo siamo il solito party soltanto che Luca ha cambiato voce Allora io faccio un una guard quindi sono dell'alleanza però tanto se giochiamo in pv non dovrebbe importare sorcer stamina farò io farò il brenote non riesco a parlare siccome ho scelto di fare l'healer che è quello che cura e lì consigliava di fare di usare una razza particolare quindi sto facendo un argoniano io potrei io non voglio fare un guerriero almeno non il classico tank non me lo fate fare no vai tra vai tra fai quello abbiamo deciso di fare tanto qua non è non è come warcraft che devi averlo per forza è ovvio dipende cosa poi andremo a fare o stego e dimension il sedere beh allora io prendo una e alfa a questo punto però posso dire una cosa il fisico dovevano farlo in mutande perché fagli il fisico con addosso le vesti non si capisce bene che cazzo sto combinando dove dove a sinistra così è come la vogliamo vedere allora no ma no che questo è un camionista il mio obiettivo più avanti sarà diventare vampiro io mi sto io mi chiamo mtab mtab io ho cambiato il solito deda mi sono usato come un uomo inventato sai cosa non mi piacciono il colore dei capelli io volevo fare un bel colore il colore dei capelli è sempre nero per me è dark totale ho fatto un personaggio dark veramente uno spettacolo personaggio totale sono proprio soddisfatto e però non posso farci niente ma questo ma questo tutorial lo devo fare per forza ah se potete potete trebel mi dice già se voglio trebel io farei tra 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 tr tra tra scusate come si cambia la visuale in terza persona con la rotella rotellina ok con la rotellina comunque in prima persona ci sta no secondo me è fatto bene in prima però anche io gioco meglio in terza come era il tuo nome Davide ma questo è il nuovo del personaggio o del... del personaggio? darkruer si, mi piace un poso stanco esc in basso a sinistra ci sono delle piccole icone, ce n'è una con friends online io non ti vedo te... come ti chiami tu? m' tab non mi trova si, ma ti avevo rimandato l'invito stai facendo invita con la e m maiuscola ah non posso uscire dall'area, sembra che devo fare il tutorial dungeons on yellow stavo invitando fabry adesso ma mi dice che only yellow groups of 4 fewer 20 che vuol dire? la città da avere cosa che non capisco, ok sono nel gruppo ok ho lasciato il... ah vedo l'igliano ah sei tu, si ok ho visto, chi è questo qua che è? cioè sono riuscito ad uscire ma aspetta ma ci hai visto? no ho visto passare uno però non... io vedo che si muore ma non lo vedo tu ci vedi? siamo sul pontile davanti all'ingresso sul pontile ci vedi? noi siamo qua sul pontile si ci sono anch'io non lo so in quella grande si ma infatti in quella grande vedo il tuo a meno che questa è una specie di piccola zona in semistanza che non tutti ci sono non tutti si vedono ma infatti noi non possiamo raggiungermi e... non avevo... oh take all Ritter guarda qua ah no ho fatto ho preso dei funghi anche io prima lo credo ah perché sono... sono elencati come in warcraft c'è il cosa c'è il suggerimento si dai andiamo allora dovremmo andare a sinistra Ogri la lampa è scomoda questo è vero l'avete trovato l'armatura ah guarda che c'è che c'è no adesso ok eh pre open tu sei dentro Ogri ma sono da solo? si e... si stavano da mangiare shelled take ah c'è... c'è... fai grazie no è buono poverino no non mi volevo sedere c'è un cappello i guanti ma quanta roba ma quanta roba ho preso ho preso ho preso una maia di roba e poi ah la spada dovevo prendere mi mancava proprio la cosa più più grossa che c'è da prendere ma già questo lancio fiamme anche nel calderone ah ok devi equipaggiare devi equipaggiare la spada ah ah aiuto c'è una che mi vuole minare va va c'è anche il tizio che suona ok l'ho massacrato di botte quindi mi ha dato un attributo e uno skill point claim esatto fai claim e devi mettere prima l'attributo o sulla vita o sull'health o sulla stamina o sulla magica magica stamina perchè io voglio fare stamina puoi potenziare anche le abilità della singola arma si come una volta world of warcraft ok io ho un terribile elmo tra l'altro mi sembra che se vado su sull'inventario no sulle collezioni ok puoi scegliere hide your elm si se non trovo un elmo bello non dai andiamo a fare l'altro pezzo di missione ah è quella di qua questa casa qua ok insomma che pare faccio se separeremo sneak to avoid enemies control to sneak ah ok col control ti nascondi dove siamo ma c'è non so cos'è questa cosa un animale è un ah stavolta ti vedo git scendi giù git ah guarda c'è qua il simbolino unlock detected cos'è sta roba qua ah ok dobbiamo trovarci fuori con i prigionieri ah si si abbassa la stamina che cazzo rega una per liberarmi destra e sinistra ok parla con enocchi dove cazzo è dopo le notti è carino allora mi vedo dove che si deve andare barca di bella barca di bella non c'è non mi ricordo dobbiamo dobbiamo incontrare Nario e quindi dopo tornare il dock eh io sono ah a livello dei mostri tuoi si dei mostri ah che ha bisogno di toccare tutto ahahah dalle cazzarola l dico ah di fatto dico 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 tu sei arrivato qua ok qua ma questo è un nemico si grande stai arrivando grande succede qualcosa allora occhio hit ah no non è qua qua nel baule allora fire salt ci vedi ci vedi si si adesso dove sei ah grande qua ho hit qua ho hit qua ho hit qua ho hit vabbè vabbè scusate tu vai andiamo sulla barca andiamo sulla barca dove sei ok ok ci sono chi è la fire bomb ma comunque ce l'hai ma c'è la elbow c'è l'arco ah ahhh spart con le frecce si ok ah che figli i combattimenti però eh ah eccola qua fire bomb ok armato boom torni indietro sullo stesso livello trovi in aria che lotta con uno poi scappate e vi tuffa la seguila nariiiiia come dicevano nariiiia se si chiama cosi Andy ma Christian dov'è che non lo vedo adesso non posso più uscire sono entrato dentro la barca ok si ti devi buttare giù oh si io sto parlando con Delms si ah vedi ho trovato qualcuno Ok ci siamo Oh ci siamo Eh abbiamo fatto anche noi Eccoci Oh Rosita Eccoti qua Oh alleluia Ci siamo teomati Allora Ho messo sul tasto shift Le vedete le torri sulla mappa? Sì Sono i teletrasporti Man mano che le trovi li scopri E quindi poi ti puoi teletrasportare nei vari punti Della mappa Dovremmo parlare col governatore in effetti E quindi qua dentro c'è la prossima quest Ah dici? Eh sì Tapparla col governatore Vediamo se ti vediamo tutti Temo di no Vediamo Proviamo Sì Ah sì 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 Buona Ah ok Forte A me non mi dà nessuna quest E' dentro di qua Vedete l'altra porta Ah forse Ha quel simbolino lì Eccolo qua E open Ah il govern Salvi Enzo salvi? Me lo ricordavo diverso No Omelian si chiama Che salvi No Governor salvi E vediamo Sì salvi Ma perché Io si chiama Omelian Scusami Ma no è quella seduta Ok Ho completato la missione E quindi mi ha dato Un punto E lo mettiamo Ah ok C'è un po' di roba Perché questa gallina è santa? Ah no non è una gallina Che cazzo è? No No è una specie di Il draghetto No c'è una Ah ma posso anche parlare Con la signora placida? Il draghetto buono Il draghetto buono Il draghetto buono Il draghetto buono Ma che cazzo di nome è già questo Vabbè andiamo dritti alla missione Vedi questo qui è per trasportarsi D'un'altra parte Bella qui la Il riverbero della luce No non è morto E' ferito ma non è morto Adesso va bene tutto Andiamo a parlare con lei Ah questo l'ho capito Sì questa l'ho fatta Ah sì la tomba Ok dobbiamo andare a Oh che succede? Ma che figata Ma dove? E' stata posseduta Profezia On ok fatto No io non vedo niente No io non vedo niente Allora si vede che Allora mi sa che ognuno Ha Ognuno ha Il proprio loot Ok ecco la tomba Dobbiamo parlare col tipo Magari se ci parla guardandoci C'è un lupo di sottofondo Ah ti dice Tasto sinistro Andrano Ancestra Al tomba Ci sono No ho sbagliato scusate Sono uscito per sbaglio Aspettatemi Figurate sei già perso Sei già perso Sei girato Dai dobbiamo andare a destra Vai qua c'è della gente Da Non mi rendo appunto Dedicato Quel fisco Di che Oh oh Qua c'è non uno Ma questi con due schiaffi Iron sword Oh Sono così da prendere in giro Guardate Tipo Acqua naturale Quella frizzata non c'è Oh Battle axe Ah c'è anche un elmo Ah c'è un altro Decorative axe Guarda Sbord Ah lascia Ma non me ne frega niente Io sono un mago Oh venite qua che c'è un po' di gente Dove che siete? Da smazzare Qua non ce ne sono No ma il cazzo Se mi ha la classe Sì prendete la roba Lockpick Sì prendete Sì prendete Saccheggiate No Ah ok Quindi sono Quindi sono diversi Ognuno c'è il suo Ok quindi ognuno c'è il suo Ok Ma qua c'è un casino di gente Ancora Chi è questo? Chi è spoiler? C'è qua uno spock Chi è? Ma questo è di qua Ma è chiuso Si apriranno Aiuto Vediamo Aspetto sbagliato Stanno arrivando gli schifi Eh No di là di là Siamo a queste cose Bastardo Aiuto Aiuto Cosa mi ha fatto Il pier Mi ha fatto Bastardo Sì è un pochino meglio della mia Aspetta che me la metto Faccio più schifo Ma sono salito anche di livello Qua c'è una stanzina Io voglio leggere un attimo cosa fa questa Ma salgo di livello dopo dai Se volate di gioco Ma sto usando frost clock Grab ticket clock Ride around your eyes Vabbè chi sta dai Oh Stai attento che sti cosi No ma fai il pier Allora c'hai la possibilità di eliminare il pier Devi spremere alternativamente tasso estro e sinistro Allora io Che è questo Ho trovato dei pantaloni migliori Forziere qua vediamo Cosa che vuole fare vuole I want that guy Adesso arriveranno un po' di schifi eh Occhio L'affittante dov'è Occhio Eccoci Siamo arrivati Aspettiamo tutti Sta facendo l'evocazione Aspettami Ecco Ma io non lo puoi di voi Ma io lo uso sempre Adesso è proprio perché sono fighe No dei parlai Adesso devi parlare con Che bella che è Insomma Beh no non è proprio così Ok Ok Per mente In modo che salta Ah ok questa è la porta che non si apriva da una parte Quello abbiamo fatto il giro Ah ok qua si ritorna fuori Sì Doveva riparlare con la Con la Doveva riparlare con l'esercizio Doveva riparlare con l'esercizio Doveva riparlare con l'esercizio Per la prossima volta